Gentili telespettatori buona giornata. Eh sì, andiamo avanti sempre sempre nello stesso modo. Pensate un po' che la sinistra è arrivata a difendere una festa illegale in un capannone di proprietà, dove il proprietario ha fatto una denuncia per l'invasione della sua proprietà. Bene, la sinistra è arrivata a difendere, ma voi ragazzi che vanno lì e ballano, cosa fanno di male? In nessuna parte di Europa permettono questo. Non so se vi ricordate cos'era successo qualche mese fa con la Lamorgese, quel party rave dove è successo di tutto, di tutto. La maggior parte ha atti criminosi, illegali. Ecco, oggi la sinistra dice, ma cosa c'è di male? Ma poverini, stavano ballando. Ma come? A Predappio c'erano quelli là, i nostalgici, erano lì in tremila e il governo non fa niente. Interviene il ministro Piantedosi e così la sinistra muta, non ha saputo cosa rispondere. Allora, partiamo dal fatto che queste persone che si trovano a Predappio lo fanno, credo, da 40 anni o forse di più, forse di più, di 40 anni, ogni anno c'è un gruppo, sempre più piccolo, perché col tempo che passa, un gruppo sempre più piccolo di persone, mai non li chiamerei neanche nostalgici, un gruppo folcloristico, con abbigliamenti, imitazione ventennio, bandiere, cravate, canti, saluti, a me sembra più una roba un po' così, una messa in scena, ma dietro quella manifestazione realmente non c'è niente di cui preoccuparsi. Però, è una roba che va avanti da 40 anni, anzi, porta un bel po' di soldi lì nella zona di Predappio. Vi ricordo che per un tempo la famiglia aveva chiuso il cimitero e da lì sempre meno persone andavano lì, perché molti andavano lì a vedere la tomba, la casa, i negozietti di souvenir, ed erano un indotto economico per questo piccolo paese, for l'impopoli, non for l'impopoli, scusate, il Predappio, for l'impopoli lì vicino, un piccolo indotto, cioè un bel indotto economico. E, a parte questo, è una roba che va avanti da 40, 50 anni, vanno lì che fanno, fanno un po' di teatro, ma non c'è illegalità, non c'è atti illegali. E così, invece, quello del rave, occupando una proprietà privata e facendo di tutto, è un'altra cosa. Ma che cosa dice il ministro dell'interno, il prefetto Piantedosi? Intanto, Giorgia Meloni prevede una stretta su queste feste illegali, fino a sei anni di carcere per chi occupa gli edifici in maniera illegale, per chi li organizza soprattutto. La sinistra è insorta, dicendo, ma come? Fermate gente che balla, invece quelli che fanno i saluti a Predappio non fate niente. Ecco, la Meloni prende le distanze da questa manifestazione, dice, politicamente è una cosa distante da me in maniera molto significativa. Piantedosi, vi dicevo, che cosa dice? Intanto lui precisa che il rave di Modena e la manifestazione di Predappio sono cose completamente diverse. La seconda, quella di Predappio, si svolge da tanti anni, è una cosa diversa. Sul rave party c'era la denuncia del proprietario. A chi gli ha chiesto perché a Modena ci sia stato un intervento mentre a Predappio no, Piantedosi ha semplicemente dichiarato che Predappio viene gestita con i canoni dell'ordine pubblico. Quindi non c'era nessun pericolo per l'ordine pubblico, ma è una messa in scena annuale folcloristica che, anzi, in quelle zone porta anche un po' di soldi tra trattorie, pizzerie. Questa è la realtà. Quel comune, Predappio, è sempre stato gestito da sindaci comunisti, per tutti, dal dopoguerra fino a qualche tempo fa, tutti sindaci di sinistra. E nessuno ha mai vietato questi negozietti perché portano soldi. Ci sono lì bar, ristoranti e negozi che vivono proprio su questa sorta di pellegrinaggio del ventennio. Capisco che lascia il tempo che trova, che insomma... Però quel paesino lì, Predappio, vive proprio la sua economia e su questi nostalgici che vanno lì. Se non ci fossero più, l'economia di Predappio cittadina crollerebbe completamente. Questo è quello che dicono proprio loro di Predappio. Ma dall'opposizione apriti cielo. Per esempio la stampa ieri titolava La russa non vuole partecipare alle festeggiamenti del 25 aprile. Uno dice, ma che mese siamo? Siamo al 31 di ottobre, ma lui non vuole andare il 25 aprile. Ma caspettine, non è neanche finito l'anno. Mi sta parlando di una roba che succederà tra diversi mesi. Poi con dei virgolettati che la russa non ha neanche detto. A centropagina c'era la manifestazione di Predappio e la russa che dice non andrò. Insomma, la stampa ha costruito la prima pagina facendo immaginare che in Italia siamo sotto una dittatura dove il Presidente del Senato non ci vado, i raduni a Predappio. Il fantastico mondo immaginario della stampa. Penoso, eh? Mamma mia. Mamma mia. Che roba. Che roba. Non che i giornali di destra siano da meno, eh? Quando faccio la rassegna stampa vi dico le corbellerie da una parte e le corbellerie dall'altra. Purtroppo c'è qualche giornale che è più simile, imparziale degli altri, ma tutti sono completamente schierati. E così Francesco Boccia, dell'opposizione, dice oggi un altro giorno su Rai 1, dice mi avrebbe fatto piacere che avessero applicato lo stesso principio del rave anche a Predappio, dove gente che quest'anno erano ancora più gasati, hanno inneggiato con la mano alzata. Se il tema è l'ordine pubblico, parliamo di ordine pubblico. Infatti a Predappio non c'è nessun pericolo di ordine pubblico. Anzi, come vi dicevo, più vanno, più soldi incassano le attività che ci sono lì. Non è che ci siano chissà quante attività. A Predappio è una strada, una lunga strada. Voi entrate, finisce col cimitero. Una lunga strada con una piazza in fondo, c'è qualche bar, ci sono tutti questi negozi che non so neanche più se ci siano, eh? Non so se hanno chiuso, se ci sono ancora. Avevo sentito che forse lì c'era il negozio più grosso di tutti che avrebbe chiuso per problemi che non mi ricordo di che tipo. Quindi anche questo filone della nostalgia che porta soldi da quelle parti sembra che piano piano col tempo si stia ovviamente esaurendo. Grazie a tutti e arrivederci a presto.